nel nome del padre del figlio e dello spirito santo a me a me buongiorno carissimi amici ben trovati e questa mattina siamo in quattro abbiamo con noi anche oltre a carlo e a claudio anche l'amico nostro amico marco e quindi lo salutiamo ecco buongiorno a tutti e vogliamo iniziare questa nostra preghiera proprio con una grande gratitudine per tutto quello che gesù ha fatto sta facendo per noi perché possiamo conoscere il padre suo e lui stesso con il padre possa abitare nella nostra vita padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amico prima di leggere il vangelo volevo ricordare qualcosa di importante del vangelo di ieri e anche di quello precedente questa frase di gesù in verità in verità io vi dico se chiederete qualche cosa al padre nel mio nome egli ve la darà è importante chiedere al padre nel nome di gesù cioè nella presenza di gesù ovvero avendo i suoi pensieri i suoi desideri i suoi sentimenti potremmo dire il suo spirito ed è proprio questo è lo spirito santo dono di pentecoste che ci farà chiedere ci darà il potere la forza la possibilità di chiedere nel nome di gesù nella presenza di gesù in noi gesù stesso quindi che chiede al padre ma lo fa in noi ecco ma vorrei dare come dire una concretizzazione a questo pensiero cioè in pratica come possiamo fare allora mi viene in mente questo esempio pensiamo a quel problema che ci assilla che ci turba che ci la volte anche angoscia no che ritorna e non riusciamo a risolvere magari si tratta di una relazione con qualcuno magari e chi non ce l'ha ste cose ecco allora focalizziamo questo punto e cosa facciamo andiamo lì in quel punto con gesù e diciamogli gesù aiutami a sentire quello che senti tu qui e fammi sentire così che cosa chiedere al padre ecco guardate non ve lo dico io ma ve lo dice gesù qualsiasi cosa chiederemo in questo modo il padre ce la concederà facciamo questa prova e in questo il padre verrà glorificato e il figlio verrà glorificato perché noi potremo toccare con mano la sua potenza la potenza del suo amore che ascolta il figlio che si mette in comunione con lui in fiducia con lui ecco allora vorrei adesso che ascoltassimo la lettura del vangelo che ecco questa mattina iniziamo il capitolo 17 che è una meraviglia è la preghiera di gesù al padre a conclusione dei discorsi di addio che abbiamo letto in queste settimane c'è questa perla di intimità gesù non parla più con i discepoli ma si rivolge direttamente al padre ma in questa sua preghiera i discepoli sono presentissimi ecco e siamo presenti anche noi allora ascoltiamo ecco chiediamo proprio questa mattina a marco di leggerci il vangelo l'avangelo secondo giovanni in quel tempo gesù alzati gli occhi al cielo disse padre è venuta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero dio e colui che hai mandato gesù cristo io te ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che mi hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo essi invece sono nel mondo e io vengo a te parola del signore l'ode a te o cristo io credo che un angello così non deve essere spiegato sì forse qualche parolina anche però dobbiamo proprio stare dentro a queste parole per far arrivare dentro di noi i sentimenti di gesù dovremmo poter trovare proprio del tempo di preghiera come gesù qui sta pregando il padre e quello che comunica con il padre nasce dal cuore e segue questo flusso di amore che è proprio l'amore dello spirito santo anche noi dovremmo fare così con queste parole io così condivido qualche piccola parolina però ognuno ha il suo compito personale per per vivere questa parola ecco gesù sta chiedendo al padre intanto alza gli occhi al cielo me lo immagino anche proprio nel getsemani alza gli occhi al cielo e dice padre è venuta l'ora ecco questa ora in cui si si svolge il compimento di tutto quello che gesù ha fatto ha detto ha portato un'ora molto speciale un'ora di intensità pienissima ecco un'ora di rivelazione un'ora per chi non vuol vedere anche di oscurità totale ma per chi vuol vedere per chi ha gli occhi aperti un'ora di luce di manifestazione dell'amore e dell'onnipotenza dell'amore che nessuno neanche la morte può fermare ecco il padre gesù si rivolge al padre e chiede la glorificazione sua e anche del padre ma che cos'è questa glorificazione glorificazione vuol dire far conoscere ma non solo far conoscere anche far riconoscere che gesù ci porta il padre che gesù ci porta l'amore del padre e riconoscendolo cioè accogliendo questa sua rivelazione noi abbiamo la vita eterna questa è la vita eterna dice che conoscano te l'unico vero dio e colui che hai mandato gesù cristo ecco la la gloria di gesù quando gesù quando il figlio eterno del padre si è fatto carne la gloria è come sta velata quasi si è spogliato di questa gloria ora che sta ritornando al padre dice glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse ecco questa gloria che era stata come nascosta ora verrà manifestata ma non pensiamo che sia solo la risurrezione e il ritorno finale alla fine dei tempi la manifestazione della gloria è la passione stessa come dicevo prima lì viene glorificato il padre perché si dimostra che l'amore niente può fermarlo l'amore niente e nessuno può fermarlo è onnipotente sulla croce l'amore dimostra l'onipotenza dell'amore ecco poi parla al padre dei discepoli quando dice ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo questi uomini che il padre ha dato a gesù dal mondo sono i discepoli erano tuoi li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola ecco da qui capiamo chiaramente che sono i discepoli ora dice essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato qui comprendiamo proprio la glorificazione cioè nel discepolo che accoglie gesù e che riconosce in gesù il padre che lui fa conoscere l'amore del padre che lui ci porta quando il discepolo accoglie così gesù credendo in lui accogliendo le sue parole sapendo che vengono dal padre il padre è glorificato nel discepolo e anche il figlio è glorificato nel discepolo e anche entrambi insieme sono glorificati perché sono riconosciuti come una cosa sola fra loro padre e figlio ecco l'ultima parte è io prego per loro dice gesù al padre prego per i discepoli non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo essi invece sono nel mondo e io vengo a te ecco in questa finale comprendiamo che c'è una continuazione gesù che va al padre continua però nel mondo per mezzo dei discepoli quindi è per questo che prega per i discepoli perché possono continuare la presenza di gesù nel mondo non prega per il mondo ma prega sempre e solo per i discepoli perché perché il mondo qui viene inteso come quella parte che non accoglie il dono di gesù e del padre quindi per salvarsi chiunque appartiene al mondo non ha altra via che uscire dal mondo per entrare nel regno che ci porta gesù ecco allora però questa missione di gettare le reti nel mondo perché altri possano entrare nel regno viene affidata proprio ai discepoli bisogna continuarla perché ecco dobbiamo dirlo come è scritto anche nel capitolo 3 dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna ecco ci mettiamo in preghiera per fare questa unione con gesù sapendo che è anche unione con il padre e sapendo che è possibile solo grazie allo spirito santo vieni gesù riempimi di te ti dono il mio cuore riempilo del tuo amore donami tutto te e con te donami le tue virtù amami gesù fa che io ti ami con il tuo amore grazie gesù grazie che io sono qui sono qui perché tu sei buono soltanto perché tu sei buono vieni da me che io vengo da te e siamo una cosa sola amore misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di te amore misericordia fa che io ti porti nel mondo intero il signore sia con voi e col tuo spirito per intercessione della mamma celeste sposa dello spirito santo vi benedica dio onipotente padre figlio e spirito santo amè amè